Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora live chat, riusciamo a metterle in piedi per oggi alle 19.15, quindi vi aspetto numerosissimi per riflettere sulla nostra Inter, sulla nostra Inter dopo il K.O. con il Sassuolo chiamata naturalmente ad andare a vincere a Genova, gioca nella stessa giornata il Milan che ospita l'Udinese, poi invece il Napoli andrà a Roma a far visita alla Lazio di Maurizio Sarri, quindi direi una giornata favorevole ad entrambe le milanesi che devono raccogliere assolutamente tre punti, qualche difficoltà in più. Potrebbe averla il Napoli in trasferta a Roma con la Lazio. L'Inter deve reagire, deve reagire al più presto, sono qui davanti alla sede, al di là delle suggestioni di mercato c'è ovviamente la consapevolezza, ha parlato Marotta, ha parlato Inzaghi alla squadra, la consapevolezza che entriamo nel periodo decisivo del campionato. Periodo decisivo in cui dobbiamo un pochino analizzare, magari lo faremo questa sera tutti insieme in live chat, anche quelli che sono gli incroci, gli snodi principali di quel che resta di questa stagione. 12 partite ancora da giocare, 13 per l'Inter, c'è questa stramaledetta partita da recuperare col Bologna, che naturalmente verrà recuperata immagino ad aprile, e io non vedo l'ora che si recuperi questa partita, perché vi spiego, mi sembra che questa partita venga un po' interpretata da alcuni come il Paracadute, da altri come Alibi, ma comunque non ci consente di avere le idee chiare su un calendario allineato, quindi non riusciamo a capire sinceramente, non avendo giocato tutti lo stesso numero di partite, e a che punto siamo. Insomma, se siamo primi, se siamo secondi, se siamo terzi, ovviamente dipenderà dai risultati, ma insomma questo asterisco con la partita di Bologna da recuperare, che è comunque una partita da giocare e ovviamente da vincere, in qualche modo impedisce di avere una completezza della situazione. Però vediamo insomma gli snodi principali da cui alla fine li ho ripassati un pochino velocemente, vediamo se siete d'accordo. Diciamo che è un triello, quello tra Inter, Milan e Napoli, un triello un po' come quello il brutto, il buono e il cattivo di Ennio Morricone, sono tre le squadre, mi sembra questa sia la sensazione di tutti, che si contenderanno lo scudetto 2021-2022. L'Inter continua ad essere favorita dai bookmakers, ma ripeto, è chiaro che una partita giocata male nel primo tempo, malissimo, come quella con il Sassuolo, ha tolto un pochino di ottimismo ai tifosi dell'Inter, alcuni dei quali sono sempre preoccupati anche quando non è il caso. Certamente bisogna tenere le antenne alzate, però ecco, sulla squadra in crisi aspetterei un attimo, perché insomma, siccome l'ho rivista più volte, mi è parso che perlomeno la reazione nella ripresa con il Sassuolo a San Siro ci dica che non è una squadra l'Inter, insomma non sembra una squadra in crisi dal punto di vista fisico. Probabilmente c'è un po' di stanchezza mentale, sono giocate tante partite e ovviamente questo ha avuto il suo peso. Adesso vediamo, io credo che Milan-Udinese e Genoa-Inter, perché bisogna andare sempre in parallelo, siano due partite che le milanesi possono vincere, quindi la situazione non dovrebbe cambiare. Magari si stacca un pelo il Napoli se non dovesse vincere a Roma con la Lazio, ma la giornata fondamentale, direi a proposito di snodi e di incroci, direi che è quella del 6 marzo. Attenzione perché poi adesso le milanesi giocano di venerdì, perché poi il 1 marzo c'è il derby di Coppa Italia, l'andata del derby di Coppa Italia. Tra l'altro il ritorno sarà molto in là nel tempo, più o meno attorno al 20 aprile, quindi è chiaro che resteremo in sospeso anche sull'idea di quale delle due milanesi possa andare in finale di Coppa Italia. Sono molto distanziate queste due partite, però è indubbio che per esempio la settimana prossima il Napoli che non è in Coppa Italia di problemi grossi non ne ha da questo punto di vista e invece Inter e Milan si affrontano tra di loro. Che dire, bisogna puntare ovviamente adesso alla giornata del 6 marzo, perché dico che è un incrocio fondamentale per l'Inter? Perché sulla carta l'Inter ospita la Salernitana che ha cambiato allenatore, Davide Nicola si è presentato benissimo ovviamente inchiodando sul pareggio il Milan, quindi massima attenzione, massima allerta a farla facile, però siamo tutti d'accordo, insomma, nella giornata in cui c'è Napoli-Milan è chiaro che l'Inter ne deve approfittare avendo la Salernitana in campo. Altre cosucce che ci aspettano da qui alla fine della stagione, per esempio tutte e tre le squadre che si contendono nello scudetto, Inter, Milan e Napoli, hanno trasferte a Torino, a Torino Granata contro il Torino di Juric, e queste sono, anche se ovviamente messe in giornate diverse, partite indubbiamente per tutte e tre da giocare con molta attenzione. Un altro snodo importante, a mio giudizio, è quello del 3 aprile per l'Inter, in cui appunto l'Inter deve andare a Torino, a casa della Juventus, e devo dire che in quella giornata lì, siccome Juventus-Inter è senz'altro la partita più importante, più difficile, naturalmente per i nerazzurri, è chiaro che ne beneficeranno Milan e Napoli, o potrebbero perlomeno beneficiarne. Un altro snodo importante, secondo me, è quello del 24 aprile, per quanto riguarda le due milanesi, perché c'è la sfida incrociata Milano-Roma, in cui in pratica tornerà Mourinho a San Siro, già lo abbiamo visto in Coppa Italia, dove è andata bene, però attenzione perché il 24 aprile Inter-Roma e Lazio-Milan, e anche la Lazio, insomma, devo dire che ha la possibilità in qualche modo di complicare la vita alle nostre rivali, l'Inter l'ha già affrontata, però è indubbio che insomma sia il Napoli che l'affronta ora in trasferta, sia il Milan che l'affronterà sempre a Roma all'Olimpico il 24 aprile, potrebbero magari pagare Dazio davanti alla squadra di Sarri. Quindi il 24 aprile, segnatevelo sul calendario, perché quello è un altro snodo importante, secondo me, del campionato. E poi attenzione perché tra le squadre insomma pericolose, che perlomeno stanno bene, poi bisognerà vedere come staranno quando ci sarà la partita, c'è la Fiorentina, la Fiorentina deve venire a San Siro e devo dire che insieme alla Roma, insomma, è la squadra più pericolosa, a parte Juventus-Inter, è la squadra più pericolosa da affrontare a San Siro. E anche lì, quindi, attenzione, massima allerta. Il finale di campionato invece, le ultime giornate, se andate a vederle, sembrano sulla carta più complicate per il Milan, perché c'è Milan-Atalanta e Sassuolo-Milan, alla penultima e all'ultima. Mentre l'Inter ha delle partite sulla carta, perlomeno più semplici, forse è questa la motivazione che spinge molti bookmakers a ritenere ancora l'Inter la favorita per questo scudetto. Ma è ovvio che, insomma, dopo Inter-Sassuolo, dopo Salernitana-Milan e, se vogliamo, anche dopo Cagliari-Napoli, col Napoli che l'ha pareggiata all'ultima istante, tutti questi discorsi che vi sto facendo su snodi e incroci sono ovviamente da prendere con le molle. L'importante, insomma, è tornare al più presto a fare l'Inter e tornare al più presto, naturalmente, al gol, perché prima segnavano tutti, adesso siamo sicuramente in debito di gol. Gli errori, insomma, che sono stati fatti nelle ultime settimane, direi non solo col Sassuolo, ma nelle ultime settimane gridano vendetta e quindi bisogna, a Genova, recuperare efficacia in zona gol. Magari ne parliamo? Ne parliamo questa sera in live chat. Vi ricordo, vi aspetto tutti numerosi alle 19.15 e quindi non mancate, perché siamo già alla vigilia di una giornata di campionato fondamentale. Ciao a tutti e qui, dalla sede dell'Inter, naturalmente. Viva l'Inter!